Se anche voi volete V-Bucks gratis vi invito a iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina e scriverci qua sotto vorrei V-Bucks gratis 3 a 5 a tutti sono Zuripura per l'italiana e oggi insieme a Pazzox sono youtuber di cui troverete il link qui sotto che fa top aggiornamenti di Fortnite Parleremo appunto, indovinate di cosa? Di Fortnite Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite o almeno lo seguite se siete in questo video In un gioco soprattutto come questo costruire velocemente per proteggersi dai proiettili per assaltare le basi nemiche o scalare le montagne E' importantissimo ma vi è mai capitato di trovarvi nel ben mezzo di una sparatoria senza materiale senza nulla per proteggervi? Nemmeno 10 di legno per coprirvi e tentare di sopravvivere? Posso confermarvi che anche i migliori giocatori di Fortnite essendo super concentrati alla partita si dimenticano di avere poco materiale e... No 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 Zu ma che cosa stai dicendo? Loro riescono a sopravvivere volendo anche senza materiale perché sono molto più veloci di tutti gli altri Beh dai Pazzox ha ragione ma tornando a noi il materiale appunto fondamentale per qualsiasi giocatore di Fortnite e con questo video vi mostriamo tutti i posti migliori per accumulare il maggior numero di risorse il più velocemente possibile Cominciamo a parlare innanzitutto del migliore posto per accumulare legno Una risorsa a tutto tondo usata sia per difendersi molto velocemente sia per costruire scale per raggiungere tetti di case oppure per spostarsi sopra colline e montagne Questo materiale appunto è usato tantissimo su Fortnite in quanto la mappa è colma di alberi e vegetazione Soprattutto anche dopo l'abnorme aggiornamento riguardanti i biomi quindi molto facile da accumulare Questa prima location si trova proprio dietro Rital Roo Questo posto ha veramente molta boscaglia e non parlo di quei meravigliosi ed immensi alberi che si trovano nel lato ovest della mappa Ma mi riferisco a quei piccoli pini che vedete nel video Se andate in quel posto riuscirete a fare praticamente 999 di legno Inoltre il vantaggio è che ci metterete poco a distruggerli e i nemici non vi noteranno perché trattasi di alberi minuscoli Un altro posto citato nel video fatto in collaborazione con Piazza che vi invito a vedere uno degli ultimi che ha fatto Otti È il complesso di fabbriche vicino Fabrica Fiorente Lì troverete moltissimi cassoni che vi permetteranno di fare tantissimo legno davvero in poco tempo Infatti ci sono due cose infortunati che forniscono molto legno in pochissimo tempo I pellet di legno e i pini alti con le foglie che toccano terra Distruggete queste due cose e otterrete legno in metà tempo rispetto al solito Quindi non perdete tempo con cespuglio, querce o qualche altra fonte di legno Passiamo ora a parlare della risorsa più apprezzata e utilizzata dai giocatori di Fortnite Il mattone Per luttare a meglio questo materiale esiste un ottimo posto che si trova a Tomato Town e Wally Wood Se ci andrete o ci passerete vicino potete fare tantissimi mattoni E vi consiglio di farne in abbondanza in quanto le rocce sono sparse in giro per la mappa Ad eccezione appunto di questi luoghi che possono avere tantissime rocce una vicino l'altra Da questa piazzetta potrete poi spostarvi più avanti dove troverete altre rocce che circondano un albero Esistono quindi altri luoghi come questo in cui potrete lutare tanto mattoni Come ad esempio vicino a Lande Letali O vicino ad Anacriacres In quel punto dove il terreno è incavato a forma di umbrello Infine l'ultimo materiale è il metallo Il metallo è il materiale più raro in assoluto Ovviamente perché è il più resistente dei primi due E ad aprire mio è il materiale più palloso da accumulare Infatti personalmente non ne dispongo mai in grandi quantità E preferisco raccoglierlo uccidendo gli altri giocatori Se però quando siete verso la fine della partita Volete costruirvi un bel fortino resistente Dovrete essere premurosi di accumulare quanto più metallo possibile Secondo voi di che posto si tratta? Beh se state pensando ai container vi state sbagliando I container fanno perdere moltissimo tempo E danno pochissimo metallo in proporzione al tempo che impiegate per distruggerli Questo posto si trova tra Rater Row o Lonely Lodge Non ha un nome preciso Molti la chiamano zona caravan o campeggio Ed in questo posto come noterete sono appunto presenti decine e decine di caravan ed auto Dove potremo accumulare tantissimo metallo Per ogni caravan otterremo circa 30-40 di metallo Per un totale circa 600-700 di questo materiale Non siete arrivati sicuramente a 999 per aver distrutto solo quei caravan Ma ora della fine della partita arriverete sicuramente ad accumulare il 100% accumulabile Il secondo posto per accumulare metallo è fabbrica e forente Anche qui troverete moltissime auto e camion che potrete distruggere per un totale di circa 600 metallo Non poco per costruirsi un bel fortino a fine partita Ok ragazzi il video finisce qui spero che vi sia stato veramente d'aiuto Perché insomma avere materiali può aiutare a arrivare alla fine della partita E cercare anche di vincere Quindi fatemelo capire lasciando un like e magari lasciando anche un commentino Ringraziamo e salutiamo anche Pazzox che vi lascerò comunque il link in descrizione Passate anche sul suo canale che porta anche lui tantissimi video interessanti e aggiornamenti su Fortnite E in ultimo vi chiedo di seguirci anche sui nostri social Instagram E andarci anche a seguire sulla pagina Telegram Tutti i link sono qua in descrizione Che vi teniamo sempre aggiornati su nuovi aggiornamenti Foto, probabili skin, probabili picconi eccetera 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 Mettiamo anche qualche meme divertente, qualche sondaggio Ci piace sapere anche cosa ne pensate voi Quindi il video finisce qui Noi ci vediamo al prossimo video su Fortnite Ciao Ciao